Sì, buon pomeriggio. Ci troviamo sulla panchina dello stadio San Nicola con Roberto Floriano. Ciao Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Roberto, domenica è arrivata la prima sconfitta contro la Cittanovese. A fine gara Mr. Cornacchini e Luca Cacioli hanno dato la colpa, diciamo, tra virgolette, agli episodi. Tu sei d'accordo? Sì, purtroppo è arrivata questa sconfitta un po' inaspettata perché comunque, sai, si cerca sempre di ottenere il massimo risultato. Sì, è stata una partita particolare. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto comunque bene. Purtroppo poi quando si fanno più errori in un'azione purtroppo si prende gol. Questa domenica forse siamo stati un po' meno attenti del solito e purtroppo loro ci hanno castigato in maniera pesante. Non so se tu hai avuto modo di rivedere la partita, ma come giudichi le occasioni che hai fallito? Ma nel calcio credo che si possa sbagliare. Purtroppo le ho sbagliate io, ma non è un problema. Mi rifarò, ci rifaremo comunque sicuramente da domenica. Le occasioni le ho riviste. Io credo di averne sbagliata una che è abbastanza clamorosa, quella di testa. Purtroppo in quel momento mi sembrava la cosa giusta da fare e niente, ma non è assolutamente un problema. Come ultima domanda ti chiedo, è rimasto in un vantaggio consistente, più 9 sulla Turris, però questa sconfitta è un qualcosa che può capitare, un incidente di percorso oppure c'è un calo fisico e mentale nella squadra? No, può succedere di perdere. Io credo che forse l'unica imbattuta è la Juventus, forse la Juve Stabia, adesso non ricordo bene in Italia. Quindi succede, è successo, speravamo di no, ma bisogna solo reagire e sono sicuro che da domenica affronteremo di nuovo la partita nella maniera giusta. Bene, grazie Roberto Floriano, studio. Per Telebari e Radio Bari, radio ufficiale SSC Bari.